Buongiorno a tutti e benvenuti. Io appositamente ho voluto attendere i quotidiani di oggi, perché l'intervento, la presenza di Gerry Cardinale ieri a Milanello è qualcosa di importante, qualcosa di molto significativo. Molti hanno scritto la seconda volta che Gerry Cardinale va a Milanello e la terza, però la seconda ha contatto con lo staff, la squadra, i giocatori, la struttura pulsante del centro, perché la prima volta è stata in occasione del suo insediamento al livello più alto della proprietà e la prima volta, la seconda volta, era stata invece in occasione dell'intervista rilasciata ad Arianna Ravelli per Rassette e Corriere della Sera. E quindi ieri in ogni caso evento molto importante, che mi auguro possa avere lo stesso effetto che ebbe tanti, tanti, tanti anni fa il famoso caravan di Silvio Berlusconi, prima di Milan e Como del gennaio 1989. Speriamo, insomma, ogni tanto riportare all'attenzione la nostra memoria può servire. Quello che è successo ieri è semplicemente questo, che la proprietà c'è, la proprietà vuole vedere bene con i propri occhi la situazione, vuole analizzarla e soprattutto vuole contribuire, capire come se ne esce, perché naturalmente oggi contano le soluzioni, non le dita puntate, non le streghe, non i capi espiatori, ma interessano le soluzioni. Al Milan è importante trovare una soluzione. E quindi la proprietà c'è, è il senso plastico della giornata di ieri. Attualmente su un tema che ha aspetti professionali, fisici, medici, di tecniche di allenamento, di tecniche di gestione, di tecniche di prevenzione, un tema così complesso e delicato, i manager ascoltano, i manager ponderano. Attualmente hanno una visione a 360 gradi di tutto quello che succede nella vita e quindi cercano di applicare la loro attenzione ad un tema molto specifico, molto dettagliato. Il fatto che la presenza della proprietà con i propri occhi, la propria attenzione fisica a Milanello, questo incontro, il fatto che sia durato parecchio tempo, significa che la carne messa al fuoco è stata tanta e non banale. E quindi è da questa attenzione, da questa presenza effettiva della proprietà che si riparte. La nostra situazione per quanto riguarda la stagione la conoscete, però vorrei per quanto possibile viverla e affrontarla con equilibrio, perché è con l'equilibrio che si esce dalle situazioni delicate e questa è una situazione molto delicata. Ora, noi in Champions League ci sono molte probabilità, non tutte, ci sono molte probabilità che noi non si passi il turno. Ho letto ad esempio Yassin Adli, ho letto Christian Pulisic che credono ancora a quello che può accadere l'ultima giornata. Giusto, sacrosanto, forza, giusto crederci, però i giocatori fanno sport, fanno campo. Noi che siamo al di fuori, che non siamo protagonisti, abbiamo il dovere di ponderare, di contemperare anche l'altra ipotesi, cioè che non si passi il turno. Adesso si sta cercando di derubricare il nostro girone a girone qualunque, non così forte, non così duro, va bene, tanto quando sei in un periodo problematico di risultati vale tutto e quindi non sto a ribattere, non sto ad analizzare, lascio dire, tanto in momenti come questo si può dire tutto ed è giusto ascoltare e farsi una ragione di quello che si ascolta. In realtà è il girone più duro di tutta la Champions League, tant'è che in gironi più abbordabili, ripeto, non cito la Lazio per un problema nei confronti della Lazio, considero Sarri un ottimo allenatore e la Lazio una grande squadra del calcio italiano. La Lazio che ha grossi problemi in campionato, in un girone diverso dal nostro in Champions League ha passato il turno con una giornata d'anticipo. Però, ad esempio, in campionato Milan-Lazio è finita 2-0 e fra Milano e Lazio ci sono diversi punti di differenza maturati in 13 giornate. Per cui, se nel gruppo della muerte, dicevano una volta, adesso questa retorica, questa eccessiva, non riusciremo a passare il turno, significa che le due partite che avevamo dominato all'inizio del girone contro il Newcastle da San Siro e il Borussia Dortmund da San Siro hanno pesato sul bilancio finale al netto degli infortuni. Però c'è stato un dominio, c'è stata una presenza importante della squadra in questo girone, fino a questo momento, la vittoria col Paris Saint-Germain, quindi il risultato col Paris Saint-Germain a San Siro e le prestazioni con Dortmund a Dortmund e con Newcastle a San Siro. E quindi questo è un aspetto delicato, avremmo tanto voluto passare il turno e vogliamo ancora esplorare tutte le residue possibilità di passare il turno, non dovesse succedere. È un dispiacere sportivo, comporta anche un problema di carattere economico, ma è una cosa che va esaminata nel complesso del girone, non soltanto guardando. Milan-Borussia Dortmund 1-3 è una partita nella quale fino all'infortunio di Malik Chao eravamo pienamente dentro, pienamente in corsa. Poi è chiaro che c'è un aspetto degli infortuni che impatta sulla squadra, la squadra dopo l'infortunio di Malik Chao ha staccato la spina perché la pesantezza, la ritualità di questi infortuni fiacca mentalmente e caratterialmente la squadra e quindi la squadra ne ha risentito. E quindi torniamo a capo e a dodici al problema degli infortuni, che è un problema sul quale la proprietà e il top management del Milan vogliono esserci e vogliono evidentemente toccare con mano, capire bene come se ne esce, come se ne può uscire, come se ne deve uscire. Per quanto riguarda poi il campionato invece, ragazzi, qui in campionato ce lo dobbiamo dire chiaro, non si molla e non dobbiamo mollare. Tra noi e la testa della classifica ci sono sei punti, che sono tanti, ma non sono una voragine. E c'è un terzo posto e una permanenza dentro i primi quattro posti che bisogna difendere con le unghie e con i denti. Cioè, se c'è un esame equilibrato di quello che è accaduto fino ad oggi in Champions League, deve esserci un esame tosto e duro di quello che dobbiamo fare in campionato. In campionato dobbiamo a tutti i costi rimanere fra le prime quattro. E quindi questo è il tema, questo è il lavoro, la proprietà c'è, dicevo, la proprietà, tutto il Milan conosce il sentimento dei tifosi, la cosiddetta, lo dico con il massimo del rispetto, è un'espressione, è una, diciamo, un'espressione gergale, la pancia dei tifosi. Poi so bene che dietro la pancia c'è il cuore, ci sono tanti testi, ci sono tanti ragionamenti, ci sono tanti sfoghi. Beh, diciamo, sintetizziamo in un modo di dire la pancia dei tifosi. Quindi non è che gli sfoghi dei tifosi siano sconosciuti o avvengono su un altro pianeta rispetto alle antenne dritte del club. No. Però il club ha il dovere di darsi delle priorità, il club e soprattutto perché in questo momento qualsiasi cosa fosse accaduta a livello della guida tecnica della squadra la situazione sarebbe rimasta la stessa. quindi con un carico di infortuni da smaltire molto importante, con un girone di Champions League che contro il Borussia Dortmund non ci ha detto bene e che sta tantissimo a cuore a tutti, ai tifosi in primis, ma fa parte di quelle sfumature di cui è fatta la competizione, cioè la Champions. E quindi dobbiamo evitare in questo momento anche la... diciamo non evitare ma non può avere la priorità, la pancia, il prurito, la pruderì di cambiare e quindi poi di attendere ambientamenti e altre cose che portano via tempo e rischiano di portare via punti, cosa che in campionato evidentemente non vogliamo e non possiamo permetterci. Quindi siccome al di là del giudizio dei tifosi, al di là di qualche errore che può esserci stato perché quando c'è l'emergenza infortuni poi... l'emergenza infortuni è una difficoltà, ti sottrae risorse, ti mischia le carte e naturalmente se fai delle scelte a gara in corso dentro un'emergenza infortuni ci sta che si possa sbagliare qualcosa, ma sbagliare qualcosa dentro un'emergenza è una cosa, sbarellare o sbroccare un'altra è a Milanello, a Milanello nelle situazioni della stagione non ci sono stati sbarrellamenti e non ci sono stati sbroccamenti. Quindi avanti con questa consapevolezza che la proprietà c'è, la proprietà è presente, è intervenuta, l'emergenza è quella, quella degli infortuni, della Champions ci giocheremo tutte le chance all'ultima giornata, al meglio senza fare nessun tipo di scelta, ieri mi chiedevano ma tu preferisci terzo, i 73 mila che vanno a San Siro da due anni a questa parte, ad ogni partita meritano che noi si dia il massimo ad ogni partita, tutto quello che abbiamo, poco, tanto, medio lo dobbiamo mettere in campo. Quindi ci si gioca tutte le chance, non dovessimo riuscire a passare questo gruppo durissimo, ci dispiacerà molto, ma non sarebbe un dramma, il dramma sarebbe invece il campionato, dramma sportivo, stiamo parlando di calcio, viva Dio con tutte le cose che succedono a questo mondo, la parola dramma l'ho usata anche troppe volte. E quindi è su questo che siamo concentrati e il campionato è Milan-Frosinone di sabato e siamo totalmente dediti, dati e concentrati su questa partita. Ciao a tutti!